Come ti devo definire? Vuoi il maschile o femminile? E qua la risposta, secondo me, è la vera esistenza del non-binarismo. Cioè, chiamami come cazzo ti pare. Eccoci, nuova puntata di Facciamolo. Io mi scuso, perché questa sarà la settantesima puntata di Facciamolo in cui non ho voce, perché sono salito a Milano per farmi questa carrellata di puntate e me se ne è andata via la voce. Però non ce ne frega un cazzo e oggi siamo qui con Carli Tommasini. Ciao a tutti, la voce la metto io, doppio. Sì, ti farò parlare, ti farò delle domande super aperte. Perfetto, sono pronta. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Io e te abbiamo problemi diversi, tu la voce, io ho un occhio che sta perdendo vita. Quindi è la puntata degli occhiali. Sì, è la puntata degli occhiali. Io ho gli occhiali per discrezione, perché quando vengo a Milano devo recuperare tutte le serate milanesi che non faccio. Giusto. Però ieri non ho bevuto tanto, perché sono stato lungimirante. Ieri ho, l'altro ieri ho bevuto molto, poi ho avuto una seduta dal fisioterapista. A un certo punto mi ha detto, sei molto stanco oggi. E io gli ho detto, no, no, sto proprio male. Da cosa l'ha capito? Savo rincoglionitissimo. Capivo un cazzo? Mi diceva, spostati, fai retrofressione, antifressione. Non capivo un cazzo? Dico, ma come si fa? Terribili. Però l'abbiamo portata a casa ieri. E a proposito di alcol, raccontiamo un pochino come ci siamo conosciuti. Io mi sono fatto il primo Pride della mia vita, un po' in ritardo. E stavamo su questo carro della Universal. Un meraviglioso carro. Un meraviglioso carro con grandi personaggi e con grandi divieti. Tra cui il divieto era quello che non potevamo bere alcolici. E noi abbiamo non rispettato questa regola. Da buona Veneta e anche in parte argentina, l'alcol scorre nelle mie vene più dell'emoglobina. Quindi penso che sia... Però stai bevendo una camomilla adesso. Adesso sì, un'ottima camomilla con un tono. Io un tè, è un tè vero. La sua è una camomilla un po' così, un po' relic. Un po' relic, un po' corrotta. Corrotta. E niente, ho conosciuto Carly. C'è stato questo scambio di drink, brindisi, cose. E a un certo punto ha comandato il Pride. Ha vinto. Ha vinto il Pride. Man of the match, woman of the match. Top player. E è stato incredibile perché, a parte che scendevi dal carro e risalivi. Io non ho capito come cazzo facevi. Allora, diciamo che il mio corpo è 70% leva di gambe. Quindi io, un salto mio è il salto di una gazzella nella savana, più o meno. Quindi letteralmente non avevo bisogno di scale per salire su quel carro. Io mi aggrappavo e tiravo su. E tiravo su. Incredibile, incredibile. E poi c'erano questi che passati, ti tiravano l'alcol. Cioè, una cosa incredibile. Ed è stato un bel Pride. Io, tra l'altro, ho un aneddoto. Ovvero che, accumulando questa idratazione particolare, sono sceso dal carro. Sono state 3-4 ore, forse pure di più, forse pure 5. Mi stavo pisciando sottissimo, ma male. Mi sono sceso dal carro con le mani in testa. All'epoca avevo anche i capelli. E io cercavo, dico, dove cazzo faccio pipì, no? Poi non potevo falla in giro. È reato. E c'era fin troppa gente per farlo in giro. C'era fin troppa gente. E il giorno dopo, magari, Webbo, Livio Ricciardi, Pisciano, a Simpione, a Milano. Immagino già i TikTok arrivati. Sì, i TikTok. Che feci, ubriachissimo, tremendo. E quindi sono scappato verso questo chiosco, sperando ci fosse un bagno. E c'era una fila della Madonna. E c'erano delle persone che io avevo capito benissimo essere non-binary. C'è presente? Non-binary. Se loro. Sì, sì, l'ho capito. Capisci? Sì. Si vedono. La tinta blu. La tinta blu. Capisci? C'è quella cosa e dici, sono persone non-binary. E io vado lì, mi gioco subito la schwa. Eh, assolutamente. L'arma segreta. Me la so giocata subito. E ho fatto. Mo' succede sicuro qualcosa di strano. Sto pisciando sotto. Mi guardo e mi fanno. Ah, il pene. Puoi pisciare dove vuoi. Quindi sessismo. Sì, sì, sì. Sono i primi. Mi hanno fatto eterofobia. Eterofobia. Giustamente. Io gli ho detto non mi pare il caso, fatemi pisciarci a morire. Tu devi dire, chi te lo fa pensare col pena? Puoi giocare la loro stessa carta. Assolutamente. Però ci sono riuscito. Ma mi hanno imbruttito tantissimo. Sono uscito da là e sono tornato a casa. Sono scappato. È stato tosto. È stata una vergogna. Ti sei svergognato davanti a delle persone non binary. Ho avuto questo alterco con delle persone non binary. Beh, io sono molto famosa per questo. Ti incazzi con i non binary. No, loro sono incazzati con me. Perché? Perché penso di essere stata l'unica creator o divulgatrice nell'ambito della comunità trans a prendere un po' delle distanze da questo fenomeno. Nel senso che ho dato le mie considerazioni riguardanti proprio cos'è per me l'identità trans e quanto possa differire poi da un'identità non binaria. danno proprio delle spiegazioni senza per forza dover alludere a una negazione di un'identità differente dalla mia. Il problema è che appena tu differisci un minimo da quello che sono i comandamenti della comunità che molto spesso lavorano un po' come una setta, finisci per essere tagliata fuori. Quindi secondo me le persone si aspettano da me, forse per il mio trascorso, il mio percorso, eccetera, eccetera, un certo tipo di divulgazione che non è quella che voglio io. Perché ovviamente prima penso a quello che penso io attraverso la mia esperienza e poi posso anche in qualche modo considerare l'esperienza altrui. Però devo parlare per il mio vissuto e per le mie opinioni, non per le opinioni altrui. E quindi sono stata tagliata fuori. Ok. Cancellata. Varie volte. Svariate. Numerevoli volte. Mi trovi abbastanza d'accordo sul discorso un po' setta. Cioè ci sono delle fazioni della comunità LGBTQ che a volte fanno una cosa, ne parlava Foucault, ne parlavo ieri con un mio amico, e l'identificazione, il discorso gruppale, è una cosa che chiaramente serve da un punto di vista identificativo. E anche per avere quel tipo di... Un senso di appartenenza. Un senso di appartenenza, una chiarezza rispetto a quello che si prova. Però io in questo senso sono tremendamente fan dell'essere comunque attaccati a un sanissimo individualismo che possa poi concretamente, che poi secondo me è un po' un limite dell'intersezionalità, che serve, io ho fatto tutti i studi intersezionali riguardo la sex positive, però allo stesso tempo c'è un limite. Ed è il limite dell'individualismo, no? Perché non consideriamo l'attaccamento, no? O altri aspetti di personalità. Perché non si arriva mai con l'intersezionalità a cogliere tutto questo? Oppure dovrebbe essere un grandissimo lavoro. Ed è sicuramente importante cercare sì di identificarsi per il discorso che facevamo prima, ma allo stesso tempo ricordarci che abbiamo un nome, una storia, un vissuto. E quindi secondo me è importantissimo non dimenticarlo. Una frase che ho molto trascritto sulla pelle, che ho sentito qualche anno fa, era di RuPaul e diceva che molto spesso, quasi sempre, gli oppressi prendono le stesse caratteristiche dei propri oppressori e quindi molto spesso si crea questa catena un po' di lotta all'oppressione o chi sta peggio di un'altra persona. Il problema è quando la tua identità si fortifica solo dai propri dolori o dai propri traumi o dal senso di inadeguatezza. Questa è una cosa che differisce molto invece da un'identità trans o nel mio caso transessuale, in cui si comprende il fatto che c'è una differenza, il fatto che esiste una disforia e si passa dal lato A al lato B, che non comprende per forza una serie di operazioni che io ho effettuato. Ma diciamo che l'effort e il lavoro che tu ci metti per conformarti secondo il genere che ti senti di essere e che sei è differente dal dire io sono così e quindi mi devi chiamare così. Cioè io non ho demandato che le persone mi dassero del femminile. Io ho lasciato che il mondo mi vedesse come la donna che sono perché mi desse del femminile, che è una cosa completamente differente. Un conto è la pretesa, un conto è l'esistenza. E io sono esistita, sono nata, cresciuta, maschietto, sono stata molto femminile e ho passato anche quell'era dell'androgenia perché una volta si diceva androgenia quando i termini un po' USA non erano ancora giunti al nostro territorio. Essere androgeni era l'essere non binary di adesso. Mentre essere transessuale era uguale prima, uguale adesso. E la differenza però che mi pone un po' un occhio di riguardo secondo questo fenomeno è il fatto che quando io ero androgeno, tra virgolette, le persone erano le prime di mi matrivo del maschile o del femminile perché io non avevo un'espressione conforme al mio genere, al mio sesso biologico. Quindi mi vestivo in un modo molto femminile ma le persone sapevano che ero un ragazzo ancora. Ed erano le persone di me ma come ti devo definire? Vuoi il maschile o femminile? E qua la risposta secondo me è la vera esistenza del non binarismo. Cioè chiamami come cazzo ti pare? Cioè non ti devo chiedere se io voglio uscire dalle regole binarie non devo rientrare nelle regole binarie con un pronome. Non mi dovrebbe interessare. Il fatto stesso che tu vuoi conformare la tua esistenza non binaria a un binarismo è di fatto ipocrita come discorso. Sì, è quello che dicevi prima, no? Sì, assolutamente. Che ne pensi ad esempio anche nei criteri diagnostici della disforia di genere è cambiato qualcosina negli ultimi anni per una questione di anche un po' inclusività. Io non sono molto fan di un processo che va top down, no? Quindi che si decidono cose ma è di un processo che deve essere bottom up. Quindi capiamo scientificamente come possiamo definire che cosa succede e poi diamo la definizione. È un po' rischioso che ci sia il processo inverso. E adesso sull'IC10 sull'IC10 c'è incongruenza di genere. Però io penso che sia importante mantenere nel momento in cui c'è una presenza il termine disforia. Perché è anche validante e legittima quello che tantissime persone trans provano. Che fondamentalmente è disforico. C'è la disforia. Penso che sia un conformismo relativo all'azione del politicamente corretto che ora dirò le cose che siamo la più fascista del mondo però è vero di base cioè nel senso non vuoi più dire disforia perché potresti in qualche modo offendere una persona che ne affetta ma allora è come cambiare la denominazione depressione come tristezza generica cioè nel senso sei una persona depressa l'importante è utilizzare un nome perché al nome tu gli dai un senso gli dai un'importanza e destigmatizzi quell'eccezione negativa piuttosto che non dire una cosa se non offendi cioè invece io sono contenta che una persona possa dire cioè non contenta però dico sono una persona che soffre di disforia di genere ok è meglio dire questo piuttosto di dire non ho bisogno di avere una disforia per essere trans no tu stai in qualche modo debellando la struttura base che ti rende la persona che sei perché se io non soffrissi di disforia non sarei la donna che sono ora certo perché se sei rimasta Carlo bellissimo era un bellissimo un uomo ragazzo bellissimo ragazzo posso dirlo cuccavo molto e sarei rimasta in quel modo però il fatto che io sia passata da A a B il motivo la ragione era una disforia è grazie a Dio che gli si dà un nome che ti aiuta a destigmatizzare la problematica credo sia anche molto importante per far capire di che cazzo si parla assolutamente perché altrimenti probabilmente paradossalmente questo politicamente corretto che crea questo cambio di nome anche di nomenclatura legittima o comunque alimenta tutti quei pensieri quella roba tipo è una moda è un capriccio è una fase di incongruenza cazzo c'è una sensazione disforia c'è della disforia che necessita di tutta una serie di questioni che fanno risolvere quella disforia e poi il modo più corretto per analizzare un fenomeno è analizzare il target di cui si sta parlando cioè se tu prendi quelli che sono i nuovi fenomeni o almeno la nuova definizione in questi ultimi anni e analizzi le persone che si sentono parte di una categoria tu vedi le stesse caratteristiche le stesse caratteristiche è una sorta di uscire dagli schemi normali ordinari quindi vedi che queste persone sono relativamente persone con la tinta col piercing col tatuaggio che non sono cose negative assolutamente non è il piercing che ti rende una persona non binaria però è quel tipo di fuck off to the society che ti porta ad essere non ordinaria e queste persone per esempio posso fare l'esempio un ragazzino che sente una persona non binaria e vuole che tu dia a questa persona i pronomi femminili questa persona vuole uscire dal non binarismo però per dal binarismo ma per far sì che venga considerata una persona non binaria utilizza vestiti canonicamente stereotipicamente femminili e quindi tu mi stai dicendo di essere non binario con gli stessi strumenti che ti rende una persona binaria quindi è un po' una contraddizione cioè tu mi stai dicendo che la tua identità il tuo non binarismo è perché tu tini la barba e ti metti una gonna corta cioè quindi tu stai usando un capo femminile con una caratteristica maschile per lo più per definire il fatto di essere non binario ma di base stai giocando lo stesso gioco del binarismo cioè io non sono diventata la donna che sono perché un giorno ho messo un vestitino quindi tu stai semplificando l'esistenza della donna o della femminilità o del non binarismo della transessualità mettila come vuoi come un capo che va contro una a una ordinalità una normalità tra virgolette e non è così no no è il punto che le persone possono dirmi vabbè anche tu per essere diventata la donna che sei ti sei dovuta operare hai dovuto fare questo hai dovuto fare quell'altro sei femminile al massimo nel modo in cui ti poni con le persone il punto è che io ho iniziato un percorso ormonale in cui il mio cervello il mio corpo tutto quello che crea la mia persona si sta indirizzando e si è indirizzata verso il genere in cui mi sento di essere cioè ci ho messo un effort che è differente certo però poi si crea sempre questa battaglia del trans di serie A trans di serie B che è brutto sì io penso io penso che poi come dicevamo prima c'è sempre un discorso tremendamente personale e ognuno secondo me può fare anche come cazzo gli pare a andare verso ciò verso dove vuoi andare no e questo secondo me è è importantissimo anche perché poi tra l'altro nella comunità LGBT ci sta tutto un casino di stereotipi eredità anche molto patriarcali anche nella nella comunità gay madonna il discorso attivo passivo sì è incredibile è una cosa di un di un ghettizzante una cosa di è tremenda ma è finito il te ecco morirò morirai piano piano no però se tu ci pensi quando per tutta l'arco della tua vita ti sei sentito dire dal mondo sei sbagliato per quello che sei e finalmente trovi una famiglia però una famiglia che è una agglomerazione di persone traumatiche traumatizzate da come il mondo ti ha trattata o ti ha trattato in questo caso ti ritrovi in questa piccola famigliola in cui tutte le persone hanno un grande problema di autostima e di gestione della propria sicurezza della propria anche indipendenza quindi queste persone lottano per avere una posizione lottano per avere un senso di supremazia perché il mondo ti ha sempre fatto sentire come se non valesse abbastanza e il problema ancora più grande per le persone transessuali principalmente per le donne transessuali è il fatto in cui anche nella stessa comunità tu non ti ci ritrovi perché io avendo completato un percorso essendomi operata eccetera eccetera e comunque essendo una donna eterosessuale gli uomini che interessano a me sono uomini eterosessuali per lo più biologici e quindi io entro in un mondo nello stesso mondo che per anni mi ha discriminata e pensa a te quanto può essere difficile riuscire a relazionarti con un uomo e sentirti amata da un uomo se quello stesso uomo magari 5-10 anni fa ti avrebbe urlato recchione per strada per farti capire cioè c'è una grande difficoltà a unire due radio completamente disconnessi l'una dall'altra cioè sono due frequenze differenti completamente differenti e più si lotta per una sorta di tolleranza di informazione più si crea la differenza perché queste persone parlano tra di loro non parlano con la persona eterosessuale è il ragazzo gay che parla con l'altro ragazzo gay è la comunità trans è il gruppo trans che parla con l'altra persona trans tu differisci da questo non ti parlano più perché tu non vali abbastanza perché tu non segui quello che loro vogliono e quindi vieni togliata fuori in qualche modo immagino immagino e mi trovi d'accordissimo la cosa più banale che si dice spesso è che nei gruppi di femministe ci stanno pochi uomini e invece è un po' quello il discorso che c'è anche una grandissima difficoltà poi nell'uomo etero di definirsi femminista che c'è tutta questa roba io sono inclusiva un po' ho tanti amici gay e anche lì il discorso di definirci secondo me vale molto di più quello che fai quello che pensi quello che promulghi eccetera eccetera che volevo dirti allora che ne pensi della questione super etero ok sì ho fatto una domanda flashata un sacco di ricordi mi sono arrivati di colpo che è una grande cazzata nel senso che un conto è la definizione di un fenomeno perché è particolare e non è ascoltato un conto è definire un fenomeno perché vuoi escludere qualcosa altro allora quello diventa discriminazione posso dirti che secondo me se nonostante io sia operata per il pubblico a casa ho eseguito un'operazione che si chiamava ginoplastica quindi là sotto non ho il kinder sorpresa come diranno tanti commenti di tiktok non ho nulla da nascondere ecco io riesco a comprendere il fatto che magari un ragazzo nel momento in cui lo sa o lo viene a sapere perde un certo tipo di attrazione perché comunque è qualcosa di così inconscio che se ti tocca non puoi in qualche modo odiare una persona per questo poi il mondo è pieno di pesci sono una grande figa quindi non ho bisogno di un tipo che non mi voglia cerco altro nella mia vita vado avanti poi si può anche decostruire il perché una persona ti debba rifiutare o per lo stigma che si porta dietro perché magari ti conosce in un altro modo e si prende poi appena lo sa si mette un sacco di dubbi in testa c'è tutto lo stigma dietro però quello è una perdita di tempo secondo me non bisogna per forza nel momento stesso in cui questa persona ti rifiuta con rispetto e trattandoti come donna ti dice guarda io non riesco ho un limite io comprendo il tuo limite e lo rispetto l'importante è che tu rispetti me basta che non ti definisci super etero però nel momento che tu ti definisci super etero in qualche modo tu l'intenzionalità è una discriminazione certo a me piace la donna però se so che tu prima eri un ragazzino perché poi io uomo non lo sono mai stata ho iniziato la transizione a vent'anni quanti ne hai ora? 25 vado per i 26 siamo coi danni 98 anche tu? sì settembre anche tu? no maggio maggio torello con il mio ex ciao Francesco ciao Francesco e no niente comunque lo stai facendo con un'intenzionalità cioè ogni volta che si parla di argomenti politici argomenti di minoranza quando una persona vuole per forza dire qualcosa mi viene sempre da porre questa domanda perché stai dicendo questa cosa? cioè le frasi che ti escono dalla bocca hanno un perché vuoi 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 tracciare una narrazione la tua narrativa che stai tracciando ha una motivazione quindi il fatto che una persona voglia venire da me a dirmi vabbè per quanto tutte le cose che tu abbia fatto rimani comunque un uomo perché sei XY o magari me lo dice nel modo più buono mi dice ok sei donna ma non sei donna femmina biologica sei comunque donna trans non sei donna io dico sempre perché lo vuoi dire? cioè qual è il senso? per quale motivo tu lo devi dire? il motivo è perché mi deve far sentire diversa in qualche modo in qualche modo si deve distaccare da una realtà che non accetta quindi la motivazione è una motivazione di discriminazione ok ma sono fatti ok che sono fatti ma perché li vuoi citare questi fatti? sì sì non serve a un cazzo non serve a nulla non serve a nulla perché poi sono le prime persone che sono attratte a questa realtà perché se tu devi parlare di un argomento vuol dire che quell'argomento in qualche modo ti tocca ti tocca sempre è come quando da piccola mi lamentavo dello sport del calcio e dicevo il calcio fa schifo perché? perché tutti i miei bulli delle scuole giocavano a calcio e toccava una parte di me adesso continuo a dire che fa schifo perché ho vissuto delle cose bruttissime ma perché? perché comprende tocca la mia identità in qualche modo sai che sarebbe una domanda bellissima da fare perché cioè che cosa ti tocca del fatto che io sia una persona trans? che cazzo vuoi? tu gli hai fatto boomerang come qualcuno quando ti offendi tu fai ma stai bene? tutto è bene? come va a casa? e lo lo destabilizzi perché non si aspetta queste domande con Mattofarini quando parlavamo di tradimento la miglior risposta quando ci dicono che ci hanno tradito è perché? prima ti incazzi ma fai ma perché? è un po' lo stesso concetto io ho scritto un commento là sotto perché secondo me avete un po' cagato fuori dal vaso perché? perché 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 secondo me il tradimento va detto ma non per una questione di cioè il gioco del vabbè ormai l'hai fatto perché dirlo se no la fai soffrire di più io la sofferenza più grande che potrebbe portarmi di un tradimento che lo vengo a sapere dopo anni non è il tradimento stesso ma il fatto che mi hai fatto perdere tempo perché quei due anni che io sono stata con te io non sono stata davvero con te perché l'avessi saputo che tu mi avessi tradito che tu mi hai tradito probabilmente io con te non ci stavo ok sì ed è una doppia bugia perché mi hai fatto vivere mi hai fatto perdere tempo e te ne parlo da figlia con una madre che è stata con mio padre per 13 anni di violenza in casa tradimenti e mia mamma è stata nonostante sapeva il tradimento e non era la stessa cosa e mia mamma fa avessi saputo prima come sarebbe diventata la situazione io non avrei perso 10 anni della mia vita 12 anni della mia vita perché mi stai rubando del tempo in quel momento il tempo non è indispensabile allora concordo nel senso che c'è un'altra prospettiva che rispetto molto che è voglio saperlo perché voglio essere messo nella posizione di scegliere ed è un'argomentazione giustissima io personalmente che è la cosa che poi di cui parlavamo con un atto non siamo scesi molto in profondo in questo discorso era io non lo voglio sapere perché di base in questo momento della mia vita se se fossi fidanzato non non lo vorrei sapere perché per quanto riguarda me io guardo al tradimento anche il discorso del perché di prima come un agito che c'è dietro determinati aspetti poi il tradimento può essere una violenza e volendo ciò può diventare una violenza e cose del genere però mettiamo il caso in cui c'è una crisi di coppia oppure un calo del desiderio sessuale io vedo molto il tradimento l'amante come uno strumento di comunicazione di sopravvivenza alla relazione di adattamento è il termine più propedeutico a me ciò che interesserebbe prima di nell'eventualità in cui lo vengo a sapere è perché però allo stesso tempo ci sta anche il fatto fallo che può essere quasi utile lo so che è un discorso un po' tricchi però lo vuoi fare fallo poi vediamo che succede d'altro canto rispetto e capisco una persona dice io lo voglio sapere perché voglio essere in potere di scegliere ok il discorso è la perdita di tempo concordo ma io personalmente quello che vedo e credo sia condivisibile anche da altre persone sempre per il relativismo è nonostante mettiamo il caso di una scappatella quindi di un tradimento soft ok la bombatina mi sono perso che cazzo stava di cioè metti caso in cui è solo una bombatina in cui è solo una situazione una scappatella non cancella il legame che c'è ok per me lo cancella ok cioè nel senso per me lo compromette ma per il semplice lo contamina lo contamina perché si tratta sempre di comunicazione allora partendo dal semplice fatto che noi siamo tutti in qualche modo stati indottrinati a questo legame cattolico da matrimonio a io posseggo te tu possedi me a giochi dei ruoli e tutti lo siamo in qualche modo e ancora di più la donna perché nonostante il femminicidio sia un fatto reale e carnale e quasi di predominanza anche la donna in cuor suo nel rapporto ha un rapporto ha un abuso di possesso che è più mentale che è più malizioso noi donne possiamo essere molto cattive se vogliamo mentalmente sì sì assolutamente c'è una differenza nell'agire perché l'uomo e il maschio per in qualche modo discendere della propria mascarinità è la forza virile la forza brutta che discende e in qualche modo afferma la tua mascarinità la donna è quasi sempre sottomessa la femmina è sempre sottomessa il suo potere naviga sottoterra non è mai in qualche modo esponenziale a un livello fisico è molto raro che venga ma perché è il modo in cui ci educano ci hanno sempre educati ok il problema nasce nel momento stesso in cui si entra in un rapporto quando la tua testa è già stata indottrinata da questo legame monogamo binario stretto e la comunicazione non esiste e quindi il maschietto che arriva a 25 anni e ha un rapporto ha 25 anni della sua vita in cui ha visto cos'è l'esempio di un uomo nella famiglia cos'è nel gruppo dei maschietti nel parlare della tipa nel parlare dell'altra tipa nel parlare del tradimento nel parlare delle corna ha un tipo differente di indottrinamento di divisione di quello che è la condivisione del corpo e la sessualità mentre la donna è la paura che l'uomo possa tradire il senso di possesso perché io devo essere l'unica e quindi c'è l'ipersessualizzazione e quindi c'è la strumentalizzazione del proprio corpo il sentore di dover essere la madre giusta per i figli del proprio uomo che è un altro discorso ancora quando si arriva in quel tipo di legame manca però cosa? la comunicazione perché la comunicazione è l'unica materia l'unica espressione relazionale che nelle scuole fin da piccole non insegnano assolutamente nel momento stesso in cui un uomo si sente di voler varcare la soglia della monogamia e intraprendere le relazioni che vanno al di là della monogamia non riesce a comunicarlo perché davanti a sé è una donna che ha un certo tipo di educazione monogama in cui il solo pensiero di volerne parlare ti fa sentire inferiore in quanto donna e quindi scatena in lei una reazione a catena di insicurezza l'uomo stesso deve in qualche modo proteggere la bambina che è la sua fidanzata la donna che è la sua fidanzata e non lo dice per rispetto ma dentro di lui nascono delle bestie secondo me di cui non può parlarne con nessuno e quindi poi si scatena la relazione del branco l'amico che ti dice rifarlo il gruppo che ti dice rifarlo e là nasce proprio la trascendenza del maschio cioè di virilità non mi importa se lo faccio lo faccio comunque e nascono le bugie e quindi tutto nasce nella base della comunicazione e dell'affetto e io che sono strettamente monogama non ti nascondo che ho avuto molti problemi relazionali ma perché in realtà se la penso in modo teorico non c'è nulla di male se ti guardi un'altra e dici che bella figa il problema è cosa nasce in me nel momento che tu lo dici cioè un conto è la teoria un conto è la pratica è difficile relazionarsi possiamo proprio partire in modo ancestrale per validare quanto hai detto nel senso che l'uomo è fecondatore no? la donna è selezionatrice e questo aspetto qui innanzitutto è vero il discorso un po' binario anche se adesso è molto più fluido sgretolatino rispetto ai tempi che la donna è più gelosa della parte affettiva perché io ti ho selezionato io ti ho selezionato voglio che tu sia il padre dei miei figli e quindi mi dà collo i tuoi fenotipi mi piacciono l'uomo non vuole altri figli di mezzo che non sono i suoi per ridurla molto e quindi c'è una protezione c'è una gelosia più relativa alla parte sessuale mentre quella della donna è la parte più affettiva perché l'uomo si può fare la trombatina però rischi che ti scappa da genitore un po' questo è il concetto mi trovi d'accordissimo io non credo cioè nel senso non sono di una fazione o di un'altra parlo molto di quello che di come io visualizzo il tradimento e ogni volta che ne parlo mi becco anche la merda nei commenti ma io quello che cerco di fare non è normalizzare il tradimento promuoverlo o io quello che cerco di fare è cerchiamo di capirlo un discorso del genere è una cosa che aiuta 300.000 volte di più di un discorso e dici no te lo direi è sbagliato assolutamente lo sappiamo che è sbagliato è una rottura di un patto fiducia fiducia fedeltà è una distruzione a livello comunicativo è una mancanza un'assenza potentissima dentro che fa malissimo sì però è molto da dire a tutte le donne che stanno guardando questo video che il problema non è la mancanza della donna perché non c'è nulla di sbagliato in te in quel momento perché noi donne siamo molto brave a dire cosa c'è di sbagliato in me se non ho abbastanza tutti gli azioni umane sì sì però il modo in cui il corpo femminile viene iper-sessualizzato nella società rispetto al maschio ti porta a un livello in cui la tua sicurezza dipende da ciò che è mediaticamente stereotipicamente corretto e sessuale quindi tendiamo poi a iper-sessualizzarci cosa ha meglio di me cosa ha meglio di me con la donna quando il problema non sei tu in quanto donna ma il fatto che un uomo non sia abbastanza sicuro di quello che è perché in realtà quello che è l'accomplishment sessuale quello che è oh mio dio mi sono fatta quello non è il fatto stesso di esserti fatta quel tipo di uomo ma il fatto che in qualche modo alimenta il tuo ego e quando un uomo ha bisogno in un momento di equilibrio relazionale di uscire e non dico di uscire fino a bombarsi una tipa ma anche il solo il like alla storia il fuoco alla storia il commento alla storia in realtà quella donna a lui non interessa nulla a lui interessa alimentare il proprio ego in qualche modo riconfermare che è ancora un uomo che può cacciare ma perché perché gli è stato insegnato che l'unico modo di essere uomo è essere un cacciatore e se non lo fai al lavoro e non sei l'imprenditore di un'azienda lo devi fare con le donne si poi là subentra anche il discorso del potere si il potere però noi donne siamo molto bravi a sentirci potenti nel momento in cui alle volte siamo anche un po' sottomesse mentre l'uomo non vuole mai sentirsi sottomesso in qualche modo deve sempre sentirsi un po' in controllo che se vuole lui se la può fare quella poi ovviamente non ci sta a generalizzare cioè nel senso bisogna sempre prendere sono discorsi un po' stereotipici ma va bene sì perché in qualche modo è anche si tocca l'argomento del femminismo quando l'uomo dice vabbè ma non tutti gli uomini ho capito che non tutti gli uomini sono così non tutti gli uomini hanno le stesse caratteristiche di un femminicida ma tutti gli uomini a catena hanno vissuto nello stesso luogo socio-culturale che porta a quest'ultimi ad avere delle caratteristiche comuni e quindi una persona la può esprimere esponenzialmente a 10 un altro ragazzo lo può fare a 4 o a 6 per me il mio ex che mi dice guarda che con quella maglietta ti si vedono un po' i capezzoli per me è un 1 capisci? dico vabbè c'è un po' di qualcosa di cui dovremmo parlare un altro mio ex che mi ha messo le mani addosso è un 8 capisci? però sono nati dalla stessa madre italiana che è questa specie di rete non visibile che è la cultura sessista che colpisce sia l'uomo che la donna in entrambi i casi carli tommasini ha spiegato not all man la proprio abbiamo capito adesso di che cazzo stiamo parlando dobbiamo continuare ogni volta che c'è sanfemminicida a mettersi in mezzo a dire ah no io non so così grazie al cazzo che non hai ammazzato una pischella meno male non lo dovremmo nemmeno dire non dovremmo dirlo ma è una frase reazionaria perché quello che fa i media fanno questo sì però andrebbe spiegato di più andrebbe spiegato di più sì però si torna al discorso di prima perché lo vuoi dire perché lo vuoi dire no not all men ma no 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 è il discorso di prima che ti dicevo perché vuoi dire per forza che una donna trans non è donna ah sì 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 la stessa cosa è perché tu da questo fenomeno devi per forza dire not all men e mi viene da dire perché lo vuoi dire cioè cosa ti ha toccato nella tua percezione inconscia personale tanto da dover dire una roba del genere vuol dire che in qualche modo ti tocca questa cosa se non avessi detto nulla sì sì no questo tocca tantissimo io rispetto quando si parla di casi di femminicidi di violenze eccetera quello che faccio che scelgo di fare è un silenzio composto nel senso che parlo anche parlo anche parlo agli uomini perché che cazzo parlo io alle donne quando stiamo a parlare di abusi di stupri o di o di femminicidi io se parlo parlo agli uomini però c'è bisogno anche di un silenzio rispettosissimo perché è un discorso anche di soprattutto nell'abuso nello stupro di rispettare l'elaborazione di quella persona non dovremmo mai dire noi come una persona deve vivere l'abuso perché magari quella persona può accadere due settimane e l'hai elaborato e tu dopo due settimane sei ancora a carciai post non puoi aprire instagram non puoi aprire tiktok una porra donna che ha subito uno stupro un abuso perché se parla di lei di come dovrebbe di come di quella che dovrebbe essere la percezione ed è un danno incredibile se ci pensiamo sì mi verrebbe anche da dire che se una persona ha vissuto un abuso di questo tipo l'ultima cosa che dovrebbe fare è aprirsi i social in questo momento però posso capire anche il senso di voler in qualche modo cercare una comunicazione o sentirsi in qualche modo capita l'ultima cosa che puoi fare però è andare su internet perché internet è il male del male cioè i commenti che io ricevo sono assurti per quanto le cose che io possa fare o non fare quindi dipende sempre molto molto la situazione di sicuro c'è anche questa grande generalizzazione dell'iperinformazione cioè tutte le persone devono per forza dire qualcosa cioè anche pro palestina o pro israele ok io sono pro palestina però non devo dire io non mi esprimo ok tu non ti esprimi io sono pro palestina per quello che ho studiato per quello che ho letto per quello che mi sono informata in un modo non bias quindi non leggendo quello che la gente della palestina diceva o quella gente dell'israele diceva ho letto bene tutto e mi sono fatta un mio pensiero adesso però sui social se tu hai due follower in più tu devi dare il tuo pensiero e se non lo dai sei automaticamente dalla parte negativa della storia si si dicono se non ti esprimi sei colpevole è esagerato è esagerato alle volte una persona può benissimo avere i propri pensieri senza per forza esprimerli anche perché l'iper informazione l'iper strumentalizzazione di un discorso fa un po' a effetto iperbole mi sembra cioè più ne parli meno importanza ok tipo così ok non so piano cartesiano matematica terza media d'accordo più parli di qualcosa più quel valore il valore di quello di cui parli diventa rumore diventa rumore e la gente non ne vuole più parlare non vuole più neanche ascoltarlo infatti secondo me bisogna avere le giuste fonti di informazione le giuste persone che ne parlano piuttosto che tante persone che parlano della stessa cosa perché dopo un po' la persona non vuole ascoltarlo proprio inizia a diventare rumoroso però questo è l'effetto del capitalismo è l'effetto degli anni in cui viviamo in cui tutto diventa veloce in cui lato ieri si parlava di una Giulia vittima di femminicidio con un bimbo in grembo due giorni dopo si è parlato di un'altra Giulia e l'altra Giulia non se ne parla più ma non perché l'altra Giulia non ha valore ha un sacco di valore la sua storia è bruttissima però siamo già passati oltre perché quello che fa il capitalismo l'informazione e il valore diventa merce sì sì la velocità la velocità diventa guadagno ci stiamo a dimenticare dell'Afghanistan si parla del conflitto israelo-palestinese e va bene se stiamo a dimenticare dell'Ucraina ci stiamo dimenticando dell'Afghanistan cioè l'Afghanistan è una delle cose più orribili che stanno accadendo contemporaneamente sì il fatto che l'Ucraina sta continuando tutto e se ne parla sempre di meno però vabbè qua siamo ancora si parla solo del panetto negra Ferragni hai derotto il cazzo questa è una diversificazione mediatica nel senso si cerca di puntare il pubblico il popolo a qualcosa che sia più appetibile rispetto a quello che è politicamente più importante ma perché perché effettivamente noi abbiamo dei rapporti con queste guerre noi abbiamo dei bisogni cioè io una cosa che ho capito andando in televisione per esempio e mi hanno strumentalizzata molto e questa è una parte importante mi hanno strumentalizzata moltissimo e io sono sicura che quando io vado in televisione a fare un programma io so di essere strumentalizzata io so che mi mettono là perché io ho 5 minuti rispetto ai 10 minuti di un'altra persona perché io so che anche se posso parlare di più di un'altra persona perché ho la forza di farlo e ho la dialettica corretta per mangiarmi queste persone non sono stupida comunque il modo in cui viene narrata una storia è per portare 5 punti a loro e 3 punti meno a me e io ne sono sicura e il fatto di questa magagna di questa grande plot tattica per in qualche modo avere un pubblico biased avere un pubblico corrotto verso un punto io lo capisco è solo che se non ci fosse una persona come me che si mette anche un po' quella criniela da leone a parlare a rispondere probabilmente non ci sarebbe nessuno o probabilmente ci sarebbe una persona più insicura o più in difficoltà e quindi io lo faccio perché sono sicura di saperlo fare e di poterlo fare però il problema è che il potere che io posso mettere in un programma del genere come i programmi che sono andati a livello politico io sono qua la tv sta controllando qua io non ho il coltello dalla parte del manico e quindi la tv è già organizzata tutto ciò di cui sentiamo sentiamo parlare vediamo informazioni ha già un plot ha già una tattica ha già una direzione e purtroppo tu non ci puoi fare più di tanto perché sei già censurata ancora prima di poter essere censurata in qualche modo ed è un po' il male di questo periodo secondo me sì sì assolutamente a livello comunicativo infatti sono sempre molto in difficoltà mi confronto spesso con colleghi e chiedo a che punto siamo perché sicuramente siamo in mezzo a una rivoluzione sessuale però ci stanno tante cose che non vanno proprio tante e appena uno esce dalla bolla ce ne rendiamo conto poi se vogliamo parlare della situazione politica in Italia adesso rispetto a se tematiche già il fatto che pronuncino le parole teoria gender non esiste la teoria gender non esiste è una è una tattica è incredibile però è una tattica di bicottismo indiretto assolutamente no è proprio un di contrasto l'inclusione l'educazione sessoaffettiva con una teoria che non esiste però quello che sta avvenendo adesso con le persone trans è avvenuto anche con le persone omosessuali anni e anni fa cioè una volta si poteva dire due uomini che stanno assieme sono malati sono contro natura lo potevi dire pubblicamente tranquillamente e tutti ti davano ragione probabilmente nell'evoluzione dei diritti sociali pian piano si è mosso quello che è il cardine quello che è l'equilibrio di ciò che puoi dire e non puoi dire e quindi tu non potevi più dire due uomini assieme non possono stare o due uomini non si possono sposare ora io ti dico che due uomini non possono procreare o che il figlio che tu hai che una coppia omogenitoriale ha vivrà un sacco di discriminazione quindi io cosa faccio io uso la causa dell'innocenza infantile quindi i bambini che soffrono per dirti che tu sei sbagliato ma non ti dico direttamente che sei sbagliato ti dico poveri quei bambini e quindi in questo modo cosa fai tu accogli tutta che è quella il riverbero sociale l'indignazione dice oh mio dio i bambini bisogna proteggerli ma tu lo stai facendo per un motivo ben preciso tu stai indirizzando quel tipo di odio e di protezione di una cosa che siamo tutti d'accordo cioè i bambini vanno protetti sono innocenti ma verso verso un target preciso le persone transessuali sono sbagliate sono malate non puoi più dirlo io ti dico però eh ma le donne trans che entrano nei bagni femminili cosa potrebbero fare? quegli uomini che si attraversano da donne e tu cosa puoi dire in quel momento? sono cose che possono accadere ma non comprendono la totalitarietà di quel fenomeno di quell'esistenza non ti posso dire le persone trans sono malate ti dico la teoria gender nei bambini sì l'educazione sessuale non puoi dare quell'imprinting perché poi vogliono cambiare c'è tutta una roba incredibile schiano utero in affitto poi ci buttano dentro tutto capisci perché ci fanno una macedonia di discriminazione ma è tutto ben organizzato loro sanno facendo questa cosa è quello che è successo in Inghilterra che poi io non sia completamente positiva al massimo sulla transizione per persone minorenni perché penso che molto spesso in quegli anni ci sia una grande confusione adolescenziale avevo letto uno studio che diceva che ha 18 anni intorno ai 18 si può si può cominciare perché lì ci sta il tasso inferiore il tasso più piccolo di comeback no ma cioè nel senso io sono tecnocratico per il discorso della anche dell'omosessualità nel momento in cui ci hanno messo un botto nel momento in cui si è decretato scientificamente che non erano persone malate nel momento in cui la transessualità la si è studiata e cioè bisogna andare verso quella direzione verso una delle poche certezze che ci fosse poi la scienza chiaramente si evolve eccetera eccetera quindi tu non puoi romper il cazzo e andare contro la scienza ma poi comunque è il perché devi andare contro cioè nel senso per esempio maggiori sono i casi di transizione in questi ultimi anni maggiori sono saliti in casi di detransizione ma perché è tutto un rapporto nel senso più gente lo fa probabilmente più gente poi se ne pente ok il problema stesso che i tassi alti di detransizione derivano dal fatto in cui il paziente trans mettiamo un ragazzino o una ragazzina di 12 anni perché no non si transiziona a 7 anni non puoi transizionare non produci neanche ormoni a 7 anni cioè produci minimi non stai neanche affrontato una pubertà c'è un rischio se lo si fa ma assolutamente nel senso al massimo c'è una transizione sociale che è completamente differente che io già facevo a 17 anni cioè senza prendere ormoni cosa succede il paziente trans ragazzino ragazzina vanno dal medico il medico ha un profilo generale di come si effettuano queste situazioni cioè tu sai che c'è un alto tasso di probabilità di suicidio per persone trans e se non inizia una transizione probabilmente quella è la fine ma è una fine casuale casistica cioè non 100% quindi il dottore dice alla famiglia se il tuo figlio o tua figlia non transiziona queste sono le probabilità e quindi la transizione arriva subito perché il genitore deve accettare una roba del genere deve supportare una roba del genere e quindi in America sono nati molti casi di ragazze biologiche che transizionando verso l'aspetto maschile quindi trans F2M female to male già rimuovevano il seno dopo un anno di transizione e poi si pentivano il problema è questo c'è un caso di contagio sociale su quello che riguarda cos'è la transizione ma perché non c'è un supporto medico adeguato cioè la risposta la domanda non è cosa è giusto è sbagliato che lo facciano ma abbiamo il supporto medico giusto o no perché i casi di donne trans che hanno transizionato a 14 anni io le amiche ne ho così americane non ci sono e stanno benissimo di casi in cui hanno transizionato ne conosco alcuni ci sono cos'è che cambia se è il dottore giusto o meno è come se ti diagnosticassero il bipolarismo e tu non sei bipolare qual è il problema che tu sei bipolare o non bipolare o che il dottore ti ha diagnosticato una cosa sbagliata però loro non vogliono fare questo perché il problema che vogliono togliere alla base è l'esistenza di questo fenomeno quindi non lo toccano come argomento in realtà avevo letto pure che è un po' devo verificare meglio che c'è un po' anche un business dietro sulla chiaramente di medicina rispetto alla transizione ma qua in Italia non spegni nulla no 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 in Italia pubblico più americano più americano però se tu ci pensi in America per esempio se io avessi avuto vent'anni in America io andavo da Starbucks a lavorare nel giro di un anno io mi operavo al viso femminizzazione gratuito vaginoplastica io ho speso quindicimila euro in Thailandia gratuito come andate alla vaginoplastica perché so che è tostarella allora non so se io sono un po' xina principessa guerriera nelle mie cose nel senso che io attacco a fuoco faccio le cose e non sviluppo un pensiero cioè nel senso magari nel momento l'ho ragionato ma mi sono già dimenticata come è andata perché è stata una cosa molto forte fisicamente mentalmente devo dire che è stata un'esperienza molto significativa beh a parte per il mio percorso personale intimo per me è stato proprio un po' la genesi di quella che sono ora perché mi rendo conto che da quel giorno sono passati quattro mesi io sia proprio un'altra persona ma non perché sono un'altra persona letteralmente ma perché adesso ho messo a parte quella che è la transizione cioè ho chiuso un capitolo tra virgolette poi ho i miei problemi ho le mie insicurezze ho altre cose che vorrò fare senti di aver finito di aver completato il percorso di transizione penso che adesso posso pensare a chi sono io al di là di cosa della mia identità che è una cosa molto più significativa poi magari su tiktok ne ho parlato in qualche video ho detto nonostante le operazioni io rimango sempre me stessa perché effettivamente io rimango una donna transa cioè non è l'operazione che ti cambia hai sempre le stesse insicurezze ma ora non hai quel fattore che ogni giorno che ti guardi nello specchio dice sei diversa da un'altra donna poi ovviamente sono altre cose che mi rendono diversa cioè non posso avere un ciclo non potrò mai avere figli io ho cresciuto un bimbo con mia mamma per sei anni della mia vita ho fatto babysitting sono cresciuta con una mamma che amava essere mamma quindi io sarei una mamma fantastica per me il fatto di non poter avere dei figli è il mio dolore più grande cioè è proprio la cosa che mi fa stare più male nella mia vita però sono sicura che potrei essere una mamma stupenda ma sono sicura anche che questa è la mia grande differenza con una donna biologica e ne ho preso atto e quindi rimangono delle differenze rimangono delle insicurezze ma te ne fai anche un po' il tuo cavallo da battaglia cioè nel senso diventano delle tue caratteristiche e più di questo non puoi fare c'è un limite sono io sono io come tante altre donne che magari si fidanzano dopo cinque anni vogliono avere un figlio e scoprono di essere sterili sterili si dice sì sì ok e che fai in quel caso l'uomo ti molla per molte donne come me vengono mollate in quel caso questa è la mia più grande paura però rimane una donna non ti piace l'idea dell'adozione? no mi piace sì ok però il problema è che per un uomo no perché sempre toccando quella che è la discendenza del maschio al maschio viene educato che la discendenza non avviene solo col possesso di una proprietà il possesso di una donna o il possesso di un lavoro ma c'è anche una discendenza sanguigna il cognome e quindi anche se non te l'ha detto tuo padre quella cosa deve avere un figlio per tramandare il tuo cognome tutta quella che è la rete sociale e culturale che ti sta attorno ti ha spinto ad avere questo pensiero e quindi un uomo può anche dire io un figlio ancora non lo voglio ma arriva ad un certo punto in cui c'è quel valore sociale quel ruolo sociale che va intrapreso in cui il figlio voglio che abbia il mio viso voglio che abbia il mio sangue il mio cognome ed è difficile trovare un uomo capace di andare oltre a questo e io purtroppo sono molto sfigata con i uomini mi ribecco tutti sbagliati ragazzi che ti devo dire è un periodaccio è un periodaccio sociale per l'affetto penso di sì no penso che le mie energie stanno diventando più positive ora quindi magari troverò una persona giusta io mi sono un po' ritirato mi hai detto mi hai detto sì sì ho fatto sì sono nella mia fase satanica e basta la fase 69 sì sì però sono comunque cucciolo io sono comunque caring tantissimo cioè le one night stand sì le faccio però mi piace anche coltivare un rapporto affettivo l'unica cosa è che ho bisogno in questo momento prima di capire chi sono affettivamente e poi anche perché io sono credo non monogamo ok e sta roba è sempre molto fluida si rivoluziona nel tempo sì e anche sotto quell'aspetto mi devo capire ok perché se sei in un monogamo non ti esencula il 90% della popolazione sì e poi sei pure un uomo quindi è ancora più difficile perché questa cosa non se ne parla spesso il fatto di quanto il mercato sessuale sia più facile per una donna cioè nel senso l'uomo ha grande insicurezza anche per quello che può essere in qualche modo l'attrazione cioè nel senso non ne parla spesso l'uomo di questo però una cosa che ho avuto ho avuto dei confronti vari con ragazzi che mi sono frequentata magari tramite Tinder o Bumble è sempre la cosa eh vabbè ma tu se stai su Tinder hai 100 match al giorno io su Tinder già tanto che ne faccio 20 ma in realtà Tinder ha una cosa molto carina per gli uomini che tu non vedi mai quando ti rifiutano ok al massimo quantifichi quantifichi i match però tipo ok ecco in questo caso secondo me è difficile il mercato la sicurezza che deriva da il mercato sessuale tra virgolette il mercato proprio il rapporto affettivo per un uomo è molto differente rispetto a una donna cioè l'uomo ha molte meno probabilità sessualmente però vi truccate pure voi concordo nel senso che anche voi vi fate selezionare no cioè non la vedo questa è anche una cosa che contrasta tutta la teoria rapil a noi ci selezionano però si truccano quindi non è che non ci sia un discorso di selezione bionivoca è una selezione diversa ma si trucca nel senso make up quel senso make up ah vabbè ma il make up di un uomo è la barba il vestiario è l'atteggiamento un po' da uomo tossico c'è la costruzione anche voi fate selezionare però il punto è che se per l'uomo l'idea del possesso arriva a un punto in cui mi va bene anche la minima quindi poi c'è questa grande che io odio totalmente che voto mi dai ok quindi se seguiamo un po' questa questa tematica però odio questa cosa perché non ha senso perché non sono un voto non sono una pagella cioè che senso ha poi ci sono donne che magari convenzionalmente sono che ne so sette o sei per le persone però poi ti prende in quel momento e quindi poi diventa molto soggettivo però vabbè lasciando questa cosa riprendendo un po' il discorso di quello che è il possesso dell'uomo se molte volte una persona l'hai sentita spesso parlare dice che ne so non riesco a cuccare mi va bene un due o mi va bene un tre per una donna questo problema non c'è perché la donna il tipo lo trova sempre perché c'è sempre il disperato ed è brutto da dire però molto spesso l'uomo pur di fare qualcosa si ritrova a dover affermarsi sessualmente con una donna che magari non darebbe un minimo valore e a me è successo che molto spesso partono col presupposto che dato che sono trans ho già un valore meno di parte perché comunque con me non penserebbero qualcosa e poi quando mi conoscono dicono ok forse è molto più importante di quello che pensassi perché vanno al di là dello stigma perché magari poi le ragazze di cui sono abituati non hanno un minimo di profondità ma minimo o femminilità per esempio quindi qual è il valore oggettivo del voto e qual è veramente poi la condizione che rimanga un meme che mi fa tanto ridere però che rimanga un meme la selezione no chiaramente non c'è in sacco ragione in quello che dici è verissimo è fattuale però allo stesso tempo credo che il discorso ma contento del 2 e del 3 adesso oggi si spera che lo possiamo un po' accantonare perché è una di quelle cose che il patriarcato cioè che a livello patriarcale intacca molto l'uomo molto io dico non siamo le più grandi vittime ma quasi però hai mai visto una tipa super brutta che stava con un figo della madonna cioè il ratio quanto spesso è accaduto che vedi la figa della madonna che sta con quello un po' più bruttino rispetto a quella bruttissima che sta con quello fighissimo no no ipergamiamo molto di più noi eh ipergamare vuol dire che tra l'altro un termine rappil ok perfetto perché tu sei un 5 e sei una 10 perché perché il problema rimane proprio sulla base del confronto della valuta cioè una donna preferisce l'uomo che è esteticamente meno bello ma perché voi avete meno pressione sulla bellezza perché anche se siete adesso un po' di più o adesso un po' di più difatti non so se vedi che la cultura eterosessuale sta prendendo molto la moda e la cultura omosessuale cioè nel senso è sempre stato così eh cioè i gay comandano tutto ragazzi e meno male però adesso vedi molto di più la confusione del trend cioè l'uomo è omosessuale che si vestiva in quel modo tre anni fa ora l'eterosessuale si veste così e sempre di più si sta avvicinando per fortuna perché c'è meno c'è una cosa che dicono che adesso per essere selezionabile ti devi vestire mezzo barbone mezzo gay eh sì sì ma c'è questa cosa capisci o magari a tante donne piace l'uomo che non si capisce se è gay o meno che a me è proprio zero cioè nel senso rimanevo nella mia vecchia vita se doveva essere così sinceramente a me piace l'uomo virile cattivo requisita un po' così un po' fluidino invece diverso ma perché sono mignotta io sì ma ci sta l'importante è saperlo è riconoscerlo il punto primo è riconoscere sempre qualcosa il problema però non è un problema cioè tipo esco con una il sugar lo metto io non ho te oh eccolo qua è questo il disco poi lo usamo su The Day ma me lo metto beh io adesso che sto un po' sperimentando con performance e robe varie nei locali mi sta piacendo molto nel senso che negli ambienti di grandi per sessualizzazione in realtà per esempio i locali dove performo robe varie in realtà c'è molto più rispetto dei locali non ci dovrebbe essere questo tipo di per sessualizzazione assolutamente c'è tipo locali un po' BDSM dove sono tutti mezzi nudi c'è molto più rispetto dei locali in giacca e cravatta no non te la pizzano no non te la pizzano non ho mai visto una pizzata a parte una volta in contesto un po' particolare l'ho chiamata amica mia stava in un percazzo ho fatto il maschio etero l'ho chiappata in angolo e ho detto te sfondo capiamo questo qua non lo puoi fare va a far piper e non rompe il cazzo hai fatto il maschio dieci eterosessuali è super forte si 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 proteggo l'amichetta passiamo alla parte un po' più spicy ti facciamolo ti va vai facciamolo cacciamo fuori le domandine allora innanzitutto ti chiederei un'esperienza imbarazzante a letto aiuto allora tu la segui le esperienze bruttine nella mia rubrica penso di si o meno ho visto qualche storia probabilmente sarebbe un'esperienza marazzante allora ero a Roma ce l'ho ce l'ho pronta 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 nel caricatore ero a Roma prima volta che andavo a Roma avevo 22 anni nel 2021 no 2021 sono andata a Roma per la prima volta e avevo questa cosa di un po' Lizzie McGuire da Alicella Popstar non so se hai visto il film no non hai mai visto Lizzie perché raga cioè ma come si può Larry Duff che fa Lizzie McGuire che va a Roma per la prima volta con una gita di famiglia no di scuola scusami e conosce questo questo romano cantante famoso e lei guarda caso è tipo la coppia esistente della cantante famosa finanzata questo tipo quindi lei parte questa storia d'amore in cui scappa si finge malata scappa in vespa di notte con lui insomma io vorremmo vivere un po' la mia realtà Lizzie McGuire dice la prima star e quindi mi becco proprio tipo romano con la vespa e una sera decido di uscire con lui andiamo al sanctuary posso dare presente a Roma un sacco di gente posto pieno di demoni demoni assurdi spaventata calcolare se seguo una pischella e vedo che sta al sanctuary non gli scriverò mai a blocco PR sono situazione un po' ragazza immagina lascia stare e quindi io invece no io ero la ribelle della situazione avevo già il tipo e prendo e vado a casa sua in vespa quindi già in vespa mi sento un po' innamorata roman experience mi sento proprio con come si chiamano il dulalop la canzone andando in giro ah ok quindi mi sento l'oro arrivo in casa sua facciamo per scopare e mi metto un plug anale allora io avevo un buco solo uno quindi quello c'era quello poteva essere utilizzabile e io ero così ubriaca che tra un momento e l'altro tipo lui è andato in cucina doveva io mi addormento col plug nel culo però il plug non era enorme cioè mi ho visto i più grandi nella mia vita c'era un plug che se tu ce l'avevi dentro non te ne rilevi neanche tanto conto ciò ho capito che due sono le cose o il plug era davvero piccolo o il mio culo è troppo stotto quindi hai fatto c'era praticamente quindi due le opzioni o era troppo piccolo il plug o il mio culo era troppo dilatato non lo so però io non l'ho sentito e lui si è dimenticato di questa cosa tanto che io mi addormento e mi risveglia dopo mezz'ora mi fa guarda ti accompagno a casa io quel tempo dormivo da una mia amica mi sono rivestita e mi sono fatta tutta Roma col plug nel culo sulla vesta sui sabbietti ma ero così ubriaca e ho fumato un po' quindi ero un po' sbandata che dicevo ma cos'è sto fastidio e non lo capivo quando sono tornata a casa ho visto la situazione e era là era là gli ho mandato una bella foto ce l'ho ancora come ricordo ciao Paolo ciao Paolo l'estrazione è stata facile l'estrazione è molto facile devo dire che comunque di esperienze sessuali assurde ne ho molte questa è una delle più divertenti no questa è top ten mai uscita su facciamolo il plug sulla spesa è un experience comunque non lo fate sessualmente sono sempre stata molto libera quindi questa cosa mi è molto piaciuta da rifare c'è la cosa è tipo chi fa equidazione c'ha gli orgasmi tu te spetta e plug nel culo bellissimo incredibile allora underrated overrated sottovalutato missionario è la mia posizione preferita ok perché è proprio viso a viso viso a viso è proprio bello pecorella sottovalutato dipende come lo fai cioè se è la classica è sottovalutato non ha senso sembra di stare in fila al supermercato ce la spieghi questa cioè che non vedi la persona che ti sta dietro però senti la presenza ok e quindi ti dà fastidio e basta mi dà fastidio e basta vabbè io ho l'altro ruolo specchio risolve tutto fastidioso anche quello lo specchio sì perché non sono in un commercial di uno spot pubblicitario cioè nel senso perché c'è il fatto stesso che tu devi farlo e dimmi guardati allo specchio per me è troppo recitato e mi dà fastidio no invece a me piace molto lo sai qual è la soluzione? dire guarda quanto siamo belli no è fastidiosissimo però se se mentre sei a 90 mi prendi e mi baci sul collo allora divento un po' più a me la cosa che mi prende di più del sesso non è il senso stesso del tatatata del momento ma è ciò che fai con le mani ok cioè se tu mi prendi mi graffi mi baci mi coccoli mi riempiti cioè quello mi prende di più cioè se è troppo meccanico o è troppo recitato io penso solo che ti stai rifacendo un porno che hai visto cioè mi dà un botto fastidio sta roba i maschietti siete un po' ma guarda ricordi porno mi tiro mi tiro fuori da questa cosa perché ci ho fatto un lavoro di destrutturazione ok tu sei a parte tu sei il fluido sì nel senso io sono degrader quindi fluido manco ho i miei momentini switch ogni tanto mi capo e dico meno meno attimo ok due cinquine ok io sono abbastanza manesca letto confide botte fai bene e che te volevo no sì è importantissimo il discorso di essere touchy di essere caring durante l'atto sessuale stesso proprio siamo pelle su pelle sì non possiamo essere solo bacino su bacino sì al massimo bacetti baci che sono importanti sì cena fuori underrated overrated ah ok no ci sta ci sta ci sta assolutamente casa in netflix non la prima sera cioè ho già capito cosa vuoi quindi assolutamente se è la prima sera overrated cioè nel senso è troppo comune come cosa e mi fa perdere la fantasia del momento cioè tanto vale che arrivo e già facciamo la cosa cioè se deve essere così non mi prende per il culo anche perché spenni 40 minuti a scegliere il film magari ti trovi una persona mi è successo che stava andando così l'ho guardato e ho detto senti abbiamo già capito dovremmo chiavare no io sono molto diretta sulla cosa cioè se io so che sta per avvenire la cosa facciamo o non facciamo e intimorisco molto per questo però secondo me è figo se trovi matchy matchy no assolutamente se l'uomo è sicuro di se stesso tanto da farsi guidare è figo se l'uomo è insicuro si sente dominato in qualche modo gli da fastidio in realtà si si può prendere un po' d'ansia e prestazione se acchiappi quella che te mena te mena che parte per la tangente subito fai un attimo non meno la prima volta no no meno termine archetipico ok sul divano prenderete dove esperienze stavo 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 overrated sono lunga sono altissima sono 1,87 ho bisogno di spazio in doccia se è alto è problematico è giusto perché io sono alta ok quindi underrated per il semplice fatto che è divertente però è limitante allo stesso tempo però è carino mi piace non sono un fan ok bene io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui una cosa della doccia certo assolutamente mi ricordi questa è una chiacchierata bellissima ciao Riccardo chi è Riccardo? è quello della doccia ciao Riccardo mi vengo e ti ringrazio tantissimo di essere stata qui di aver contribuito in modo meraviglioso al punto di vista divulgativo è stato un piacere e ciao a tutti bacioni ciao a tutti ciao a tutti